sei fuori no no non riesco sì ma stamattina così con la mia gomma poi figurati è già troppo adesso vediamo ah ecco firma firma vito firma pizza pizza che le tue angolazioni sono sempre migliori tanto non arriva fino a qua no ma oggi lui fa la solita questa la fa fai anche quella che hai detto spampi scusa e poi basta qua non attacca neanche se neanche con i chiodi beh vabbè ma lì sei fermo ascolta grazie grazie